Molise Salute, questa la nuova app con cui la Regione Molise mira a contribuire alla digitalizzazione del sistema sanitario. Un passo avanti verso il futuro l'ha definita il Governatore Roberti, che oggi insieme al DG dell'Asrem di Santo, l'assessore Micone, responsabili dei sistemi informativi dell'Asrem, ha presentato il nuovo applicativo che consentirà ai molisani di prenotare una visita, un esame di agnossico o anche pagare il ticket in totale autonomia. L'app, scaricabile da Play o da Apple Store per gli smartphone, può essere avviata dall'utente attraverso la propria identità digitale, ovvero con le credenziali dello speed personale, ma dopo il primo accesso il cittadino potrà decidere di inserire anche un codice più facile e semplice da ricordare. Si tratta, hanno spiegato durante l'incontro, di un contenitore che via via raccoglierà tutti i servizi sanitari e che darà la possibilità agli utenti anche di prenotare gli esami dei privati accreditati una volta che questi entreranno nel CUP. Un passo in più verso la digitalizzazione del sistema sanitario regionale, che aveva già fatto ricorso all'intelligenza artificiale per smaltire le liste d'attesa, ma soprattutto un balzo in avanti per il sempre più atteso fascicolo elettronico. E' questo un altro tassello importante nel panorama della digitalizzazione della sanità. E' un'app che rende fruibile, accessibile e innovativo, se vogliamo dire, la possibilità di accedere immediatamente ai servizi. E' nella logica ovviamente, dicevo, come tassello fondamentale perché poi con lo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico e con la telemedicina chiuderemo questo grande cerchio che darà sempre più vicinanza al cittadino, sia ai servizi che alla fruibilità del sistema sanitario.